Ciao a tutti, sono Roberto, un viaggiatore italiano appassionato di popolazioni che seguono lo stile di vita tradizionale, grazie a Hector ho avuto la possibilità di incontrare e vivere per una settimana con i Mazzes o Maiorunas in un'esperienza che non credo sia facile trovare altrove perché non solo ho potuto incontrarli ma ho potuto proprio vivere all'interno della loro casa tradizionale, la Marocca e di tutte le sere ascoltare i racconti degli infanti, della gioventù di questi anziani che vivevano in un'epoca in cui ancora si ammazzavano le tribune miche per rapire le mogli e di fatti una delle signore dell'Armalocca era stata rapita in un'epoca. Se volete vivere lo stesso tipo di esperienza così vicina alle popolazioni vi consiglio di rivolgere via da Amazon Explorer.